Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in un nuovo video Riprendiamo con Call of Duty Mobile Dallo scorso episodio mi sono allenato ancora, come vedete in alto a sinistra Sono a livello 63, sto andando parecchio avanti Ragazzi, arma ultra figa, guardatela qua Lo sparo per le battaglie dominio, prima linea, eccetera eccetera Mi sono fatto l'archetto da panico Adesso siamo Robin Hood Oggi video speciale, facciamo il motivo per cui sto usando il plurale Battle Royale perché non sarò da solo a farla Ci sarà anche il mio amico Andrea, poi dopo lo sentirete Abbiamo organizzato di farci un paio di Battle Royale insieme Lui è iniziato da poco, da uno o due giorni E partiamo Ok, già online, adesso lo invitiamo Come vedete sono ritornate le Airpods Adesso aspettiamo che accetti Oh, eccolo qua Grande Andrea, perfetto Ragazzi, il Battle Royale sto andando abbastanza bene Sto iniziando a scalare le varie classifiche Adesso sono, mi sembra, professionista 4 oppure 3 Adesso non mi ricordo molto bene Siamo sempre medico Attiviamo il microfono, perfetto, funziona André? André? Ci sono? Oh, eccoti qua Allora, siamo in diretta E ragazzi probabilmente sentirete l'eco della mia voce Vai, saluta i miei pochi iscritti Ciao a tutti, bella Bella lì Allora, sono pronti a morire male Mulino sempre No, io direi andiamo alla base Dedi al poligono di tiro Ti va bene? O vuoi andare direttamente a mulino? No, ci sono più armi secondo me in base militare Ok Perfetto Tra l'altro mi sa che il jump leader forse eri tu O ero io? No, ero io Ma dove stai andando? Tra l'altro ho già un nemico davanti Che sta entrando nella base Al mulino, no? Ma no, era la base Ma sei un salame No, ma sto venendo alla base No, vabbè Se adesso sei Stai Come si dice Sei vicino al mulino Allora Questo qua si è pigliato l'elicottero Sapeva che non c'era tripa per gatti Ecco, questo è un cretino Perché ha fatto esplodere un elicottero E sicuramente si vuole prendere l'altro Come nello scorso video ragazzi Io taglierò quelli pezzi morti Eccolo qua Qui alla base si stanno sparando Malissimo E mi sa che il prossimo sono io Ok Hai fatto il furbo con l'elicottero Mo crepi No, mo crepi Ah, eccoti lì, bravo Sì, sì, ti vedo Sì, ti vedo Aspetta, ce n'è uno che ti sta arrivando Occhio Eccolo là Aiuto Aiuto Dai, non posso fare una figura così barbona Aspetta, sto entrando in Kioh Aspettami, aiuto Occhio, occhio, occhio Mi hanno ucciso a me Io non c'ho neanche un'arma Eh Va bene, a dopo Ragazzi Battle Royale più Barbona Che Hobb ha mai fatto Vabbè Già dopo Ok, almeno adesso sono io Lo jump leader Allora, abbiamo già fatto una figura Da capre Attenzione Allora ragazzi Abbiamo cambiato location Stavo andando al mulino da panico Che come avevo detto Era esattamente Il posto dove sono andato Anche nello scorso episodio Andrea andrà a farsi giro da basso E io all'alto Oh, un bel cecchino Andre Hai chiesto lato il cecchino? Eh, sì No Eh, duro la vita Guardami qua Guardami qua No, lanciarà zi anch'io No, sopra non c'è una beata minchia Zero? No, zero Aspetta Eccolo qua No, veramente? Zè Tacchete Olè Girati No, ci sono passato io e non c'era Eh, magari non l'hai vista Io due lanciarazzi Cioè, veramente le cose più inutili le ho io Madonna Sai che dobbiamo andare, mi sa, sull'isolotto? Perché? Ho appena guardato la mappa Oh, ecco un tipo Aspetta Io lo ammazzo Tu vai a prendere le armi Non credo che lanciarazzi Riluardo, salvami Ma che mira di M-O Eh, sì, biondo Nonno Vai, 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 vai Cadi Vai, prenditi le armi Aspetta ragazzi, sono molto generoso Dovrei sparare in testa all'Andrea Però non posso Molto probabilmente Secondo me la zona centrale Cioè, finale Sarà o il molo O uno dei due ponti Meno male che ho il cecchino Perché sui ponti si avvira molto il cecchino Oddio, c'è un altro tipo Ti ha tirato una granata Aspetta, lo faccio io Aspetta, lascia, lascia, lascia Ce l'ho qua in canna È mio o tuo quello? Io non ho neanche sparato Non ho neanche sparato Stiamo ancora un pochettino qua Poi iniziamo a muoverci Ma stai fuori Io? Eh certo Mica vado di là così in allegria C'ho due munizioni in croce Eccola in mezza strada Oh, sono due Che bello Allora Bravissimo Ah, uno l'ho fatto fuori io Bella No, mi sa che l'ha ammazzato il tipo Aspetta, non sprecare le munizioni Vai Ah, in testa Coprimi Stiamo già in 70 Buono Ok Torniamo al mulino Adesso guarda come crepa male Quell'uomo Guardala Lo vedete lì sulla mappa Adesso, tac Gli sparano da dietro Hai un nemico a 260 Hai paura Eh beh C'hai paura No, non c'è nessuno No, non c'è nessuno L'avrei già shottato malissimo Eccone lì uno Ma dove Ah, come l'ho fatto fuori male Ma dove ero? Dove ero? In Ah Ah 267 Ah, sì Io l'ho fatto fuori Troppo bene Vai tranquillo tu Ci penso io Mi capo Ma c'ho una mira del cacchio oggi E Baffan Cuore Aspetta Fammi controllare di là A nord Se arriva qualcuno Bulleggiamoci Guardate come siamo qua Venite Allora Siamo vicino qua Alla teleferica Oh, guardatelo là Guardatelo là Salame Ah, ho preso anche Ah, ho preso anche A 140 Eh, senza lame Tu stai qua sopra Ok Stai lì, Andre No, sono sceso da ammazzare tre persone No, due persone Vedo una macchina Ah, no, è la nostra È la nostra Eh, Andre Dobbiamo andare sull'isola Dobbiamo andare sull'isola Per forza Dobbiamo prendere Che cos'è che E vieni Salta giù Con la macchina Aspetta Sì, andiamo con la macchina va Sì, andiamo con la macchina Poi andiamo a recuperare un elicottero Dove sei? Eh, salta giù Sono sotto di te Devi saltare Verso la teleferica Poi tanto giù Dove di quello che Ecco lì Aspetta, frena lì Vai, parto Non mi sento molto sicuro qua Mettiamoci Tu segui me che ci mettiamo dietro il container qua Dove c'è la barca Andre, dove stai andando? Andre, sono qua Bravo, salta Prima su quello blu Quello lì Alla lato sinistra Andrea Questo Bravo Oh Vai vicino all'elicottero Vai, sali qua Sali qui Subito, subito, subito Volo, volo Sali Vai, vai, vai Fatti Mamma mia Ciao ragazzi Ma lasciate farlo Ma è diretto sull'isola Sono un team leader nato Ah, ecco l'ho visto adesso Ok Tra l'altro qua Ho scoperto che c'è la cittadina Dove si ambienta uno degli scontri Eh, come si chiama? In prima linea? Ho perso Merda Ok Ok Ti ha cecchinato Sì, più o meno Ce n'è un altro Va bene No, forse sei tu Dietro di noi 100 Adesso è tornato 36 Ok Siamo morti Bene Ottimo A dopo ragazzi Allora signori Sempre camperati Sta arrivando uno Attenzione, attenzione Andre non sparare a cazzo Lascialo avvicinare Sì, sì Sì, sì Mi sa che ci ha visto già Loro mirano Però Sai, se lo avvicini Non posso usare il cecchino Perché sarebbe Bravissimo Ok Beh, il russo non è male No Oh, finalmente c'ho il mirino bello Anche Ah, ok Noi siamo dentro la civil zone Conta che arriverà secondo me Eccolo qua Ok Aspetta, fammi vedere Se c'è Se trovo Sì, ma Andre Se prendi tutto tu Prendi tutto tu Prendi tutto il resto Allora Dopo dobbiamo andare Verso la base nucleare Più o meno Più o meno Che è una brutta zona Ne è uno Aspetta a sparare Ah, già vicino No, perfetto Allora Bravissimo Ok Vai a prendere tu le munizioni Vai a prendere tu le munizioni Vado io? Sì, sì Cerchiamo di resistere, ragazzi C'è nella 1 Eh? 1 No, torna indietro 1,5 ce n'è 1 C'è un M4 È meglio di quello lì di prima Eh, sì Prendi l'M4 Poi si basa tutto anche sulle munizioni Cioè se l'M4 ha poche munizioni E non prenderlo Naturalmente No, no Ne aveva 150 Ma posso Tu che stai salendo Sì Aspetta Tu sei qui? Tu sei qui Ce n'è uno in mezzo alla strada Però non sparare ancora Non sparare Perché sta entrando nella casa Di là ne arriva uno Di là ne arriva uno Ok, lascialo avvicinare quello Lascialo avvicinare quello Tu controlla quello lì Io vedo quello a 260 Bravissimo Aspetta a prendere le munizioni Di là ne arriva uno Della solita casa Ok Lascialo avvicinare sempre Vado io Coprimi Aspetta Aspetta C'è uno dove c'è la palla di fieno Sì, lo vedo Lo vedo Fatto io Vai, vai Tranquillo No Non questa Becillo Oh Ma questo è un salame Perché? Perché aveva un fucile da cecchino Non l'ha neanche utilizzato Quindi lei ha preso te automaticamente Quel cecchino Andre Controlla un attimo Se arriva qualcuno Alle mie spalle E andiamo Non c'è nessuno Non c'è nessuno? Dai scendi Buttati giù Vai Dove vai? Andre Andre dove vai? Io ti lascio Ciao Ok nessuno Aspetta che controllo Tu controlla lì Nessuno Che non voglio che nessuno ci segua Ok andiamo Aiuto Bravissimo Prendi Prendi le cose Ce n'è uno dietro di noi Bravissimo Andrea Oh Andrea sta andando bene Molto molto bene Andre Andrea Controlla le spalle ogni tanto Come sei messo come munizioni? Bene ma non benissimo Eccone eccoli Qui sotto Qui sotto E qui sotto Dove Andre 2 e 34 Ce ne son due Adesso l'altro Non so dove è andato Eccolo là L'altro è più o meno A 190 Eccolo lì Che sta salendo S 177 Più o meno Ce ne son tre Non li vedo proprio Eh No li vedo proprio No li vedo proprio Eh No li vedo proprio No li vedo proprio Eh Reloading Cover me Buona buona L'ho fatto fuori io No buona L'ho fatto fuori io Ma erano morti Andrea Ma erano morti Andrea Ah l'uccisione Ho fatto 8 uccisioni Fino adesso Eccolo là Abbio Abbio Oh Ma è sparito Verso dove Coordinato Eccoli qua Ce ne sono due A 122 E però Li posso solo Cecchinare Ok Non l'ho ammazzato io Merda 110 108 La zona è qui Eccolo qua Ancora uno Dove sei? Verso dove la mando L'abilità almeno No non tu Andre No non sto dicendo a te Dov'è il tipo È vestito di bianco Dovrebbe essere Vestito di bianco Cioè bianco più o meno Qualcosa del genere No verso la torretta L'ho mandata Eccolo lì È verso la torretta Sì È dentro Dove c'è il deposito Dove c'è la macchina Più o meno Sì Dove c'è la macchina Sì perché è uscito L'unico punto rosso La fine c'è solo lui Quindi Dove c'è la torretta La casettina piccola grigia E poi c'è un garage Eccolo là Eccolo là Eccolo lì Che puzzola Grandissimi ragazzi E abbiamo vinto l'ultima Grande così Perfetto ragazzi Se almeno questa L'abbiamo vinta Se no era un video Veramente tristissimo Però Andrea è andato Molto bene Molto bravo Ha fatto 8 uccisioni Io 4 Io sto arrancando A livello professionista 4 Pensavo fossi al 3 No sono al 4 Molto bene Livello 63 Qui abbiamo Varie cose Questo è stato Il primo video in cop Con un amico Cercherò di portarvene Eventualmente Altri Magari sempre con Andrea Visto che se la sta cavando Piuttosto bene Queste partite si è comportato bene E poi vabbè Arriveranno altre Battle Royale Dove invece sarò io Soltanto da solo Quindi ragazzi Lasciate like Seguite un po' le istruzioni Sotto il mio bel faccione Qua sotto Attivate la campanellina Vi prego Perché non posso Spalmare sempre i video A destra manca Per non rompervi Le balle a voi Quindi attivate la campanellina E siete a posto E da First Class Olic Pasquali Andrea Che non vi può salutare Io vi mando un enorme saluto E noi ci vediamo A un prossimo video Ciao